Ok, inizia già a modulare, porto un po' di velocità, taglia bene Qua pensa sempre a favorire l'uscita L'accento si può staccare o è lunga? No, no, si può staccare Bisogna dare una bella pressione iniziale, ma non ci sta Questa tuba qua frega tantissimo Eh sì, bisogna prima girare, poi frenare, se uno non ce l'ha molto in testo è difficile Vai subito dentro Mettici però un po' 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 Mettici però un po'